Sì, dopo aver sentito il collega all'Asia, mi dispiace, non sono riuscito a parlargli prima, però si è sbagliato in una cosa. Siccome ha citato giustamente questo provvedimento è un provvedimento che va ad aiutare le giovani coppie, cioè chi decide di farsi una famiglia, se avesse aggiunto all'emendamento, comprese le coppie omosessuali, la sinistra avrebbe votato il provvedimento. Invece, siccome non c'è scritta questa parola, la sinistra voterà contro questo provvedimento. Quindi i discriminati sono gli eterosessuali e non gli omosessuali. È evidente, quindi, ancora una volta, il distinguo da parte della sinistra. Noi vogliamo difendere la famiglia e le giovani coppie eterosessuali. Da un'altra parte del Parlamento e del Paese c'è chi invece, con una lobby sodomita, vuole esclusivamente difendere... Deputato, la richiamo all'ordine. La richiamo all'ordine. Togliamo la parola che è finito il tempo.